Buonanotte chef! Buonanotte geeky! Anche per oggi, cracko chiude. E mo, me vado a famber kebab. Quello si che è buono. Ah no, c'ho una casa. C'ho una famiglia. Che palle. Fammi lavare le mani che c'ho la sarmonella. Madonna quanto so bello. Me dovevo via Roma quando potevo. Mo me sto a fare le disane. Una volta almeno, era la tennis quick. Grazie.